Buonasera a tutti Mi ricordiamo che questo evento particolare è stato messo in piedi in occasione dell'anniversario della morte di John Lennon che ricorre ieri e quindi ci siamo incontrati fugitivamente per mettere insieme questo spettacolino in onore dei Beatles ed è il nostro album preferito 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti